A Firenze per girare un documentario sulla sua vita, l'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchigori ha parlato anche di calcio, iniziando proprio dalla sua squadra, quella che sfiorò lo scudetto, tanto che oggi non sono pochi coloro che lo rimpiangono in città. Oltre che il portafoglio c'era il cuore e questi due elementi ci vogliono sempre, il cuore umano oltre il portafoglio ci vogliono, però il calcio oggi è diventato una cosa, affoga un po' nei soldi, è tutto spostato, non ha trovato ancora secondo me, il problema nasce sempre dall'origine dei diritti televisivi che sono stati quelli su cui io sono caduto poi alla fine. Ma qual è il giocatore dei suoi tempi rimasto più nel cuore a Vittorione? No, no, sono più di uno. Comunque, Rui Costa, Battistutta, Toldo, è famoso il mondo che per un pelo vincevamo lo scudetto. Peccato solo per Cecchigori che non arrivò anche Turam perché in quel caso a suo avviso il tricolore sarebbe stato sicuro nell'anno in cui Trapattoni si laureò campione d'inverno per poi finire al terzo posto. Insomma, se potesse l'ex presidente Gigliato salirebbe ancora in balaustra, lui che è stato l'ultimo a vincere un trofeo. A proposito, la chiusura è proprio sulla Fiorentina di oggi che a Cecchigori piace, è la migliore da quando non ci sono più io, dice, e che in Coppa Italia a suo avviso può tornare a far gioire i suoi tifosi proprio come ai vecchi tempi. Io gliel'auguro, certo, noi quella volta là vinciamo proprio a Bergamo e poi vinciamo anche la Supercoppa, quella volta là. E' proprio bello, la Supercoppa fu la Supercoppa. Però vinciamo con il Milano la Supercoppa a Milano, però adesso è tosta, l'Atalanta gioca, però a Fiorentina c'è tutte le carte in regola. Grazie. Grazie. Grazie.